Maria Di Nardo Balestriere, una docente della Scuola Media Mara Napoli che fa parte dell'Istituto Comprensivo Don Milani, si inaugura lo sportello Sacomè, uno sportello che servirà soprattutto per i genitori? Sì, è uno sportello che si occupa del sostegno alla genitorialità ed è uno sportello di ascolto, consulenza, orientamento e mediazione. Praticamente è un punto di riferimento stabile, costante, diciamo una novità per il nostro territorio, per la nostra scuola. Tutta l'utenza può usufruire di questo sportello perché abbiamo dei punti di riferimento come le mail e il contatto telefonico che troverete o sul sito oppure sulla brochure che abbiamo elaborato per voi. Ed è uno spazio veramente riservato a tutti i genitori che vogliono soffrirne, in quanto per qualunque disagio, qualunque perplessità possono riferirsi a noi tutti i mercoledì dalle 16 alle 17, ci troverete qui presso la sala Teatro Sabatino, c'è questo spazio dedicato esclusivamente a voi. E poi è previsto un calendario di incontri, di seminari gratuiti, completamente come tutto quanto il nostro progetto, che affronterà insieme alla dottoressa, buongiorno, delle tematiche appunto relative al ruolo genitoriale. Quali sono le problematiche che avete notato sono più evidenti fra i genitori? Diciamo il disorientamento, appunto per questo c'è anche il discorso dell'orientamento. I genitori ormai sono completamente disorientati e mi ci metto anche io all'interno. Perché? Perché c'è stato un cambiamento della società evidente, straordinariamente evidente. Per cui i genitori hanno bisogno tutti di ritrovare loro stessi innanzitutto e quindi essere, diventare, riprendersi il punto di riferimento per i loro figli. Che stanno un attimo, stiamo tutti quanti un pochino perdendo di vista.